Io penso che ognuno di noi dovrebbe considerarsi un ospite sulla nostra terra e quasi un affittuario da parte dei nostri discendenti, i quali ci hanno affittato questa bellissima zona che è la terra e non abbiamo nessun diritto di distruggere, dovrà tornare a loro quando loro arriveranno alla nostra età. La nuova generazione dovrebbe non imitarci, non imitare quelle che sono state finora le generazioni, che hanno cercato di prendere solamente senza dare nulla alla terra, portare via quello che è possibile succhiando via ogni forma di hidrocarburo, metano, petrolio, succhiando via ogni minerale che sta riducendosi in maniera drastica, cercare di ridurre quanto è possibile l'aggressione e il divoramento del terreno coltivabile, cercare di considerare la terra come qualcosa che deve andare avanti ancora per millenni e non che debba finire domani con una ricerca continua, spasmodica di avere sempre di più in termini di energia, in termini di consumi, in termini di spreco e in termini di prelievo di risorse che nessuno mai potrà ridarci, perché un albero tagliato può rinascere, ma una vena di petrolio una volta prosciugata mai più nessuno ce la darà. Allora, io penso che il consiglio da dare è quello che oggi si è letto sui giornali, che i grandi patrimoni imprenditori statunitensi danno metà del loro patrimonio per la conservazione della natura e dell'ambiente e dell'uomo, questo certamente è un po' utopico che loro lo facciano, però certamente che si comportino in maniera da non danneggiare troppo il nostro ambiente. Io ero architetto, figlio di un costruttore e quando ho visto che ogni casa che facevo era un piccolo pezzo di terra che scompariva ho cambiato idea, ero anche cacciatore e non sono più neanche cacciatore. Bisogna che ognuno di noi abbia il senso della divinità della nostra madre terra che deve essere rispettata, anche se qualche volta ci limitano i nostri guadagni, le nostre avidità e le nostre ambizioni. Dove vengono i platani, da dove vengono questi bagolari, da dove vengono questi tigli, chi sono, come mai sono arrivati da noi e voglio ritornare sempre a quelli che sono gli alberi in natura, cos'era una magnolia in natura, cos'era un tiglio in natura, cos'era un ipocastano, dove sono gli ultimi ipocastani selvati, su una piccola valle della Bulgaria. Cercare di riportare le nostre arberature a qualcosa di naturale, non solamente artificiale.